del nostro sistema città e cioè spazi straordinariamente strategici che per troppo tempo sono rimasti di risulta senza una vera e propria vocazione un altro elemento che mi ha sorpreso non lo conoscevo, lo diceva Massimo Luciani è che per densità di abitanti la nostra città in realtà è la sesta città in Italia 3491 abitanti con una densità abitativa superiore a città come Roma e quindi in realtà è una realtà metropolitana che se anche non lo è per estensione lo è per definizione, lo è per presenza di popoli per manifestazioni di bisogni e facciamo tutti insieme che questa manifestazione di bisogni che oggi è una criticità si trasformi nel tempo in opportunità, in occasione per coloro che hanno scelto di viverci in questa città 3491 persone per chilometro quadrato e allora porto, aeroporto, trasporto metropolitano pubblico dice questo rapporto lo stato dell'arte lo conoscete io non ci rientro perché dovrei dire che il porto è insabbiato l'aeroporto ha necessità del completamento e dell'allungamento della pista ma lo hanno detto gli altri cosa si può fare? ma guardate che semplice ci sono i poteri in regione che al governo nazionale perché ciò che era stato previsto e magari qualche volta anche stanziato e penso all'allungamento della pista e al piano regolatore culturale tornino ad essere priorità dell'agenda politica istituzionale e delle rappresentanze sociali e di categoria perché poi ha voglia di dire che quando viene Berlusconi in Abruzzo Chiodi la accompagna come se fosse un hostess ma quando si va sul bando del governo nazionale in un tempo in cui le risorse sono limitate bisogna avere la chiarenza degli obiettivi bisogna capire che cosa si va a chiedere e io credo che chiedere per Pescara che si confermino questi impegni già assunti a livello degli grisi dal potere governativo costituisca come dire la porta di accesso a che lo sviluppo possa iniziare c'è poi l'area strategica in una città che dal post definisce come un lezzo al castello che lo spazio non lo abbiamo dell'ex copo unita all'area di risulta degli ex serbatoi di Propezio un'area sulla quale già c'è un indirizzo di pianificazione urbanistica da parte del comune di Pescara un'area che deve creare dicono i redattori del progetto questa logica di waterfront di legamento con l'armo che deve essere un grande spazio umano ma anche al servizio delle attività ricettive e centro di servizi integrato io a me non interessa come amministratore pubblico chi ci entra in questo progetto la Camera di Commercio è ben bene non è un problema tanto rimane sempre al potere pubblico al palazzo di città il potere di indirizzo e quindi che sia un altro ente pubblico l'interlocutore va molto bene non va bene è anche evidente però che dentro e questa è stata l'intuizione del Partito Democratico questa opportunità si cala per definizione ad esempio lo strumento della finanza innovativa europea perché il nostro comune insieme al governo regionale pensa di utilizzare lo strumento Jessica e quindi fondi disponibili che però nella logica di quei fondi devono essere restituiti nel termine di 10 anni e quindi bisogna realizzare insediamenti che producono profitto si pensa all'area di risulta della stazione ferroviaria con 100 milioni di euro dove l'unico profitto che si può fare se si fa in parco si fa lo spaccio di cocaina o se non si fa in parco lo spaccio di cocaina che garantisce un utile di quella dimensione si possono fare i palazzi e non si pensa invece a quest'area molto più ridotta ma che per vocazione potrebbe garantire come dire l'installazione lì l'insediamento lì di attività economiche imprenditoriali individuate insieme al pubblico che possono garantire quella dinamica di produzione del profitto che garantisce l'utilizzo di quello strumento oppure si vuole mettere dentro al calderone delle ipotesi possibili tutte ipotesi in alto alto in modo che quei fondi cadano a terra e comportarci sempre come dice l'Alfonso come nei tempi di Fontamara dove il territorio fortunato era quello che aveva la natalità del potestaditurio io non credo che questo sia utile credo che la nostra proposta su questa questione sia centrale poi ci sono le aree sempre di risulta della stazione di Portanova e quindi di intuizione di mettere al servizio della città della conoscenza riprendendo il concetto prima come dire solo parzialmente accennato ma può darsi che l'università in questa città al di là e dire dell'orgoglio di averla costituisca solo un elemento che produce problemi problemi di parcheggio problemi di governo degli affitti in nero agli studenti problemi di realizzazione delle aree dentro fazzoletti di terra ma quando la cominciamo a puntare dalla finestra questa logica provinciale secondo la quale ciò che è opportunità altrove diventa un problema qui ma è possibile che il potere pubblico ma anche il potere privato dell'imprenditoria e il giacimento culturale dell'università e delle scuole superiori di questa città si mettano all'interno di un circuito virtuoso in cui tutto ciò che accade è coordinato concertato e può costituire occasione per tutti e allora chi membro dell'università può realizzare lì un polo della conoscenza o degli ordini professionali a casa delle libere professioni a fianco i palazzi della regione e l'ultimo che è una retratto e veramente ho concluso la zona franco-urbana non si realizza per un decreto a fare un decreto ci vuole Pina Fasciani che ha fatto l'onorevole lo sa credo che un quarto d'ora venti minuti siano sufficienti di approvare il decreto attuativo per la zona franco-urbana è pronto in bozza sul tavolo del ministro Premonti da maggio del 2009 personalmente Gianluca Cusili non so se è un reato non è una copia perché me l'hanno trasmesse e io me la sono letta e quindi ho la contezza che quel decreto esiste e può essere approvato è solo una scelta politica e allora insieme all'università e alle scuole perché lì diceva il rappresentante del governo di Loreto ma c'è la speculazione di vizie insomma noi non vorremmo ma perché lì non ci mettiamo un incubatore di imprese insieme alla casa dell'interprofessione e c'è un sito dove oltre la formazione di qualità oltre alla selezione degli imprenditoriali dei giovani pescaresi enormi come diceva Di Costanzo che possono avere la qualità del successo imprenditoriale quindi vengono selezionati a monte si realizza anche la disponibilità di spazi a costi concordati calmerati nella fase della start up dell'impresa che riduce anche il problema della distorsione della concorrenza e della speculazione di vizie su quelle aree che comunque in qualche misura si è già realizzata attraverso l'incentivo fiscale prima promesso e poi non realizzato io veramente la finisco qui perché credo che l'illustrazione sia stata già troppo lunga ma rappresenta una pagina di buona politica e noi consideriamo come il partito democratico di Pescara questo punto di partenza buona politica perché ci permette innanzitutto di concentrarci e di produrre le idee talfonso ieri diceva quando non ci sono le risorse la ricchezza viene da le idee e la buona politica è quella che produce le idee è in grado di comunicare ecco perché il rapporto mi dicevo Massimo Luciani va reso il più pervasivo possibile all'interno di questa città anche facendo un sacrificio di ordine economico finanziario per spedirlo alle famiglie perché lo leggano e diano se possibile anche il loro contributo di riflessione e poi nella buona politica quella che comunica le idee però realizza quando assume le responsabilità di governo o almeno è in grado di spiegare perché sono puntate le commissioni per non poterle realizzare più perché non si possono fare le campagne elettorali dicendo tutto il controllo di tutto e poi comportarsi esattamente al contrario e quindi pensa dice tutto quello che pensa e fa tutto quello che dice io vi ringrazio molto anche per l'attenzione che mi avete dedicato spero che questa occasione sia veramente come dire la utilizzo ancora un'espressione del funzionario un inizio lui dice cominciamento lui dice un inizio di un nuovo percorso di selezione perché questo è anche il compito del partito di una classe dirigente a tutto tonto politica istituzionale burocratica amministrativa universitaria imprenditoriale all'altezza delle affinazioni di sviluppo che ha questo territorio delle ambizioni di sviluppo della nostra città e della nostra area metropolitana perché io sono convinto che la sfida del futuro certo la può vincere Pescara certo la può vincere l'Abruzzo ma se non la vince Pescara non la vince neanche l'Abruzzo grazie 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 allora a questo punto passerei a parole a presentanti degli altri comuni dell'area metropolitana raccomandate